My name is Bellucci, Monica Bellucci. Se si dovesse dare carne e ossa a una delle madonne di Tiziano, non ci sarebbero dubbi. La scelta ricadrebbe su di lei, Monica Bellucci. Nonostante le origini umbre, l'attrice, che detiene il brevetto internazionale della bellezza mediterranea, sembra essere uscita dallo stesso mare da cui Vergine nacque Venere. Nel suo corpo, la natura, non l'arte, ha coniugato l'eleganza geometrica del profilo di Silvana Mangano con le sinuosità neorealiste di Sofia Loren. Nei diversi ruoli da lei interpretati, al cinema come negli spot pubblicitari, si è incarnato un potentissimo paradigma estetico, quello della grande madre, divinità antica e misteriosa, procace e ammaliante. Santa Maria Malena, Ora Pronobis Monica è stata scelta dal regista Sam Mendes per affiancare l'agente 007 Daniel Craig nel nuovo film della serie Spectre, che uscirà a fine anno. Si inverte così la tendenza a selezionare attrici o modelle in età da marito, tra cui le girl italiane Maria Grazia Cucinotta e Caterina Murino. Anche Mr. Bond si adegua all'aspettativa di vita dell'ONU e si lascia sedurre da una signora che assomma in sé non una ma due età della vita, i venti e i trenta. La carriera internazionale della Bellucci tocca una nuova vetta. Dopo essere stata concubina di Dracula, spia pontificio nel Patto dei Lupi, Cleopatra in Asterix e Obelix, Maria Maddalena nella Passione, secondo Mel Gibson e l'incantevole maliarda dei Grimm, la nuova Lady Bond abbandona la storia sacra e profana per abbracciare un mito del presente. Insieme a lei anche l'Italia entra nel cast. Parte delle riprese sono infatti in programma a Roma e la stessa attrice, a giudicare dal nome del suo personaggio, Lucia Sciarra, vestirà o forse svestirà i panni di un'italiana. Il 2015 si profila ricco di nuove soddisfazioni per Monica che lo scorso autunno ha avuto un'esperienza cinematografica canadese. Presto sarà nelle sale con Ville Marie per la regia del québécois Guy Édouard. Se qualche audace ancora osa essere scettico sulle sue effettive capacità di attrice non ha che da tapparsi le orecchie. Oppure visitare la sezione italiana di un qualunque museo. ritroverà Monica, muta, anche lì.